Si chiamava Ahmad Abu Maria, aveva solo 25 anni d'età, aveva subito delle minacce vere e proprie di morte perché era omosessuale, era un gay. E pensate che in pratica il governo in questione non c'è più, è stato fatto fuori, è stato veramente decapitato nella Cis Giordania, un ragazzo giovane che aveva tutta la vita davanti da vivere ma purtroppo non ce l'ha fatta per colpa di qualche burro, di qualche, chiamiamolo burletto nei social addirittura è presente, il video, il video dove si vede la decapitazione dell'uomo in questione, gli amici avevano diciamo così capito che qualcosa stava andando nel verso sbagliato e il ragazzo non ce l'ha fatta, ha perso miseramente la vita. Dal vostro narratore italiano di Youtube Italia è tutto, datemi le vostre opinioni, ci ringrazio di averle, Ahmad Abu Maria, riposi, pace e amore.